Undicesima edizione del Premio Nazionale sul reportage di guerra Antonio Russo ieri sera a Palazzo Sirena di Francavilla. Un'occasione importante per ricordare l'importanza dell'informazione sugli scenari di guerra nel mondo. La serata condotta dal direttore del centro Luca Telese, alla presenza di tante autorità, dal presidente regione Marco Marsiglio, all'assessore regionale Roberto Sant'Angelo, al sinaco di Francavilla Luisa Russo. I premiati di quest'anno Stefania Battistini, giornalista RAI inviata in Ucraina, e poi Simone Traini, operatore TV partner di Stefania Battistini, Fabio Tonacci per la carta stampata, il corrispondente della Repubblica, e poi Andrea Spannauso per la nuova categoria dei podcast. Altri premi a Gabriele Michalizzi per la fotografia e premio alla carriera a Mauro Galligani. Una serata importante per ricordare Antonio Russo, l'inviato di guerra per Radio Radicale, che ha trovato la morte tragicamente nel 2000 a Tbilisi, mentre raccontava la guerra in Cecenia. Un modello, un faro per tutti i corrispondenti di guerra che attualmente operano nei vari scenari. E allora andiamo a sentire le tante testimonianze raccolte in questa serata. Mi ha commosso questo premio, mi ha commosso stamattina a rivedere le sue cose, i suoi lavori, il suo modo immersivo di fare giornalismo, questa idea di stare otto mesi a Pristina, di dormire nelle case delle persone, dei civili, di condividere con loro l'aria, il cibo, i dolori, e di riuscire a farli diventare racconto, denuncia, testimonianza. Io se devo pensare al giornalismo lo penso un po' così, un po' totalizzante, anche se è una fatica, nel senso che poi bisogna anche sapersi distaccare da tutta questa simpatia, questo soffrire con gli altri, e imparare a vedere i fatti, a mettere così, confrontare le testimonianze, trovare le prove, insomma è una continua altalena di sentimenti, di empatia, di sofferenza umana, ma poi anche di distacco, di analisi. Sono felicissima, ecco. Una volta che si sta su quel treno del dolore, del dolore umano, che si avverte e a cui ci si avvicina nelle guerre, non si scende più, non si è più quello di prima. E la carriera professionale di Antonio Russo raccontava quello, raccontava di un collega bravissimo che aveva cominciato un percorso, quel percorso era la prima stazione del treno del dolore, e evidentemente non riusciva più a scendere perché ha coperto tutti i fronti di quel periodo. C'è una foto molto bella di Antonio in mezzo a un gruppo di bambini, e non è una foto edificante, buonista, è l'immagine del modo in cui intendeva il suo lavoro. Rimane epica quella sua fuga dall'accerchiamento su un camion di profughi, lui poteva sembrare un profugo perché era quel tipo di giornalista che non aveva il cravattino o la livrea, ma aveva il sangue per raccontare le cose. Quindi ora ne servirebbero uno, dieci, cento, mille. Bellissimo, diamo un premio che sia in suo onore e che questo uomo fosse un abbruzzese al 200%, perché secondo me anche nel modo, nel tipo di conflitti, nelle terre che ha abitato, è sempre stato uno nelle montagne, nei confini infuocati, non nelle sale stampa. E quindi quel suo aspetto di uomo che poteva essere uscito da un pascolo o da una masserizia era la sua identità. Per la famiglia Russo è comunque un momento particolare. Sì, è un momento di grande emozione, ma per noi molto importante, perché portiamo avanti il progetto, il desiderio di Beatrice Russo, di mia zia, che voleva ricordare ciò che è accaduto ad Antonio Russo con l'istituzione di un premio che portiamo avanti per onorare la memoria di Antonio, ma anche per ringraziare tutti i giornalisti che veramente fanno un lavoro importantissimo per portare a tutti la verità di ciò che accade nei territori di guerra. È sempre un ricordo doloroso da una parte, ma ci fa anche piacere rivedere ogni anno quanta attenzione ci sia su questa particolare nicchia del giornalismo e vedere come lo spirito di Antonio Russo sia preso ad esempio dai grandi del giornalismo di guerra. Da questo punto di vista è stato un antesignano, quindi è bene ricordarlo e siamo qui per rendere omaggio alla sua figura.